ciao a tutti allora oggi voglio mostrarvi qualche piccolo segreto per risparmiare acqua e tempo in cucina allora la maggior parte delle persone quando preparano ad esempio la pasta prendono una pentola per bollire l'acqua e un pentolino per fare il sugo quindi cosa fanno fanno soffreggere gli ingredienti nel frattempo l'acqua salata bolle con la pasta e poi dopo si versa il sugo si mescola tutto e si vanno a mischiare le due cose invece volevo consigliarvi questa questa cosa volevo indicare di questo piccolo trucchetto allora voi se avete il barattolo del sugo pieno potrete fare così evitare di utilizzare il pentolino e quindi sfruttare solamente la pentola e quindi potrete procedere in questo modo allora prima di mettere l'acqua mettere l'olio nella pentola e far soffriggere gli ingredienti tutti quelli che volete li fate soffriggere per bene e una volta soffritti andate versare il soffritto nei piatti aiutandovi con un pezzo di pane perché aiuta a far scorrere meglio il tutto e alla fine il pezzo di pane ve lo potete anche mangiare una volta che il soffritto è già dentro i piatti riempite la pentola di acqua e assalate al momento in cui arriva a bollitura aggiungete la pasta fate bollire fate cuocere la pasta una volta che la pasta sarà arrivata a cottura potrete fare nel seguente modo come vi ho anticipato inizialmente questo è il caso in cui vi trovate col barattolo di sugo pieno prendete la pentola e andate a scolare l'acqua nel lavandino con adesso non mi viene il nome comunque con quella pentola che serve per scolare con il cola pasta ecco però non dovete tirare via tutta l'acqua un po di acqua dovete lasciarla rimettete la pentola sul fuoco con quindi l'acqua cotta e un minimo di acqua di cottura e poi dopo ci andate ad aggiungere il sugo che più vi piace nella quantità scelta da voi così andando a mescolare avrete nel frattempo la pasta con il sugo diluito grazie all'acqua di cottura perché la maggior parte dei sughi di oggi sono un po pastosi invece in questo modo avrete la possibilità di averlo un po diluito dopodiché potrete andare a versare il tutto nei piatti e mescolare avrete risparmiato un pentolino se invece avete il barattolo di sugo praticamente vuoto allora dovrete procedere in questo modo soffriggerete ancora inizialmente gli ingredienti vi aiuterete poi a versarne il piatto sempre grazie al tocco di pane che poi dopo vi mangerete riempirete la pentola con l'acqua salerete verserete la pasta e arriverete a far bollire e a cuocere la pasta una volta giunta a cottura allora dovrete fare in questo modo verserete un po di acqua di cottura della pasta ma senza usare il mestolo proprio prendendo la pentola e versando un po di acqua di cottura nel barattolo con lo sugo che sarà praticamente finito in questo modo voi poi andando ad agitare il barattolo chiuso riuscirete non solo a diluire il sugo rimasto nel barattolo ma anche a ripulire per bene tutto il barattolo nel frattempo scolerete tutta l'acqua in eccesso riposizionerete la pentola sui fornelli con la pasta completamente stavolta svuotata dell'acqua di cottura e andrete a versare il vostro sugo già diluito e pronto all'uso nella pentola con la pasta mescolerete il tutto e andrete poi successivamente ad aggiungere tutto il preparato ai piatti con il soffritto già pronto ultima cosa per risparmiare sempre tempo e acqua in cucina è questa cosa qua allora dopo aver cucinato laddove vi troverete piatti e pentole unte di grasso perché magari avete utilizzato il burro o magari l'olio e quindi magari sono pentole o piatti con residui che ne so di arrosto piuttosto che di pasta al burro prima di passare la spugnetta insaponata dovrete passare un pezzo di carta dello scotex per ripulire bene il tutto è sicuro che in questo modo farete molto più in fretta e farete meno fatica successivamente a pulire tutto quanto grazie alla spugnetta intrisa di sapone spero che questo video in qualche modo possa esservi stato utile se volete condividete il video e al prossimo video tutorial su qualsiasi altra cosa dovesse venirmi in mente un saluto e buona giornata o buona serata a tutti ciao 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 ciao